Ciao, oggi come leggete dal titolo un video un po' speciale qua sul canale, un video per ringraziarvi di tutto il supporto che mi avete lasciato sotto i video quest'anno, per i mi piace, i commenti, per le iscrizioni perché siamo a 7000 iscritti, ma non solo, per tutto l'affetto che mi avete mandato in direct, per i messaggi, per davvero tutto, per quest'anno insomma, un piccolo giveaway regalino che durerà da quando pubblico questo video fino al 24, quindi fino alla vigilia, alle ore 9 di sera, estrarrò i vincitori che saranno due o vincitrici e poi appunto datemi qualche giorno per spedire i vari pacchettini, quest'anno ho deciso di fare due vincitori, ma di prenderne uno su youtube e uno su instagram, su youtube come sempre dovete essere iscritti al mio canale, lasciate un mi piace sotto a questo video e un commento, scrivete qualsiasi cosa, basta che sia un commento sensato, magari cosa avete chiesto a Babbo Natale, se sarete in vacanza, se starete a casa, insomma, qualsiasi cosa, purché non sia partecipo, bei premi partecipo, eccetera eccetera, essere residenti in Italia e essere maggiorenni o comunque se siete minorenni avere il consenso dei vostri genitori, controllate che la playlist dei video piaciuti e delle iscrizioni sia visibile al pubblico perché in passato mi è successo di non poter tenere conto di alcuni commenti proprio perché non ho potuto verificare queste due piccole regole, mentre per quanto riguarda instagram dovete seguirmi su instagram, trovate sempre il link in descrizione, mettere mi piace alla foto che vi lascerò anche qui così capite sotto quale foto andare a commentare taggando due vostre amiche, quindi queste sono le regole ma ve le scrivo anche nell'infobox se magari non mi sono spiegata bene, mentre per quanto riguarda i premi ho deciso di mettere in palio questi due eyeliner di NYTZ che andrà uno a un vincitore e uno all'altro, io non l'ho provato questo eyeliner perché come sapete ho già quello di Kat Von D che dicono sia il dupe perfetto questo di NYTZ, anzi dicono che sia ancora meglio, diciamo che questo è stato l'eyeliner del 2017, tutti ne parlano bene, si vede ovunque e quindi è per questo che ho voluto inserirlo magari a molte molte di voi interessa come prodotto e quindi ho voluto metterlo, sarete voi a dirmi com'è, se realmente è top top oppure sono solo voci che hanno fatto un po' di hype, poi due ombrettini di mulac e ho scelto la via in rose che io trovo favoloso, specialmente come blush e Cindy che penso sia proprio l'emblema di queste nuove uscite mulac, io questi li possiedo e vi lascio nelle schede qui in alto il video swatch dove ve li faccio vedere anche applicati, ovviamente uno andrà un vincitore e uno andrà all'altro e come ultimo ho deciso di mettervi questo formato viaggio del better than sets di Too Faced e due campioncini dell'olio di capelli sempre di mulac, anche in questo caso uno andrà all'altro, uno andrà un vincitore e uno andrà all'altro. Il primo commento che sceglierò io è quello su instagram quindi è quello che avrà l'opportunità di scegliere i prodotti praticamente e niente io non ho nient'altro da dirvi, vi mando un bocca al lupo e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!